Con un'esperienza familiare di oltre 50 anni, il re di Pisoni Martino SRL offre opere di copertura civile e industriale, latoneria edile, rimozione, bonifica e smaltimento amianto estremamente qualificate. Cura costruttiva, servizio totale e personale qualificato hanno così permesso alla ditta di divenire il punto di riferimento per l'edilizia moderna.